Musica Musica Ne è passato di tempo Che cosa sei venuto a fare qui? Sono venuto a vendicare il nostro maestro Che tu hai tradito e assassinato Non sei mai stato alla mia altezza Cosa credi di fare? Mettimi alla prova Cosa 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 Come ti avevo detto Vendicherò il mio maestro Non mi farò battere da uno come te Direi che ora di finirla con il riscaldamento Hai ragione Mi vorrei fare più serio Cosa 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 Cuacci Cosa Sì! Sapevo che non potevi vindicare il tuo maestro Sei troppo debole Ora basta Ora basta No! Finalmente ho vendicato il maestro. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info